Apriamo la conferenza stampa alla vigilia della decima giornata di Serie C Now con il tecnico Giuseppe Bianchini. Arzegnano Valchiampo, Lumezzane, la presentazione del turno infrasettimanale. Grazie mister. Grazie a te. Affrontiamo il Lumezzane dopo una partita fatta bene, che è una sconfitta che brucia e ci brucia ancora e abbiamo voglia di riscattarci e fare una partita come si deve, una partita che sarà sicuramente difficile contro un avversario che ha qualità, però vogliamo portare a casa punti a tutti i costi. C'è Francesco Meneguzzo, il giornale di Vicenza. Sì, buongiorno mister. Dopo la beffa giunta nel derby con il Padova non c'è nemmeno il tempo di lecarsi le ferite, che si torna in campo per una nuova sfida molto importante anche in ottica salvezza direi. Sì, andiamo ad affrontare il Lumezzane che è una squadra ostica, una squadra che ha valori che ha diversi giocatori importanti e di qualità, ma noi dobbiamo pensare al nostro, dobbiamo pensare che comunque stiamo bene, che veniamo da prestazioni fatte bene, non abbiamo raccolto punti nell'ultimo e vogliamo raccogliere adesso. Si affronteranno tra l'altro due squadre vogliose di riscatto, visto che entrambe arrivate da un capò. Sì, l'ho appena detto, sia noi che loro. Chiaramente dopo una sconfitta hai voglia di ritornare a far punti. Lo vogliamo noi, lo vorranno loro, vediamo che il partitano verrà fuori. Sì, tra le altre cose il Lumezzane ha tardato di tre punti rispetto a voi, quindi vorrà in tutti i modi cercare di festeggiare davanti ai propri tifosi. Quindi bisogna stare attenti anche a questa voglia, cosa ne dice? Ma sì, ma no, ma al di là dei punti non punti, loro giustamente verranno qua per fare la loro partita o per provare a vincere. Noi faremo altrettanto e dobbiamo fare una partita fatta bene perché l'avversario è di valore e dobbiamo assolutamente fare una partita tosta. A suo parere i punti del Lumezzane, che dati alla mano, è una squadra che segna tanto ma anche concede parecchio? Sì, è una squadra che ha tanta qualità, ha tanti giocatori che possono andare in rete e poi sì, concede, però è una squadra votata anche all'attacco, organizzata e tutto questo assolutamente. Visti i numerosi impegni che vi aspettano, pensa di attuare il turnover? Sì, qualcosa andrò a cambiare, ma l'importante è l'atteggiamento, la voglia di sacrificarsi uno per l'altro, la voglia di andare a raggiungere una vittoria che ci serve per ripartire e ci serve soprattutto per la classifica e per dare anche modo ai ragazzi di convincersi ancora di più del valore del lavoro che stanno facendo. Grazie mille mister. Grazie a voi. Insieme al nostro difensore Andrea Gemignani analizziamo il turno infrasettimanale di Serie C Now che domani porta i gialli e celesti in campo per la sfida con la neopromossa Lumezzane. Grazie Andrea. Ciao a tutti. Chiusa la non aggiornata, solo due i giorni di lavoro con Focus al decimo turno. Come avete lavorato Andrea e come vi state preparando? Beh, innanzitutto è un turno infrasettimanale, quindi sappiamo che abbiamo qualche ragazzo da recuperare, l'abbiamo fatto, stiamo preparando la gara comunque tutti insieme, l'abbiamo fatto in modo egregio e sicuramente come ogni partita verrà fuori una buona gara. Turno infrasettimanale appunto, decima giornata di Serie C Now, Arzegnano Valchiampo, Lumezzane. Presentiamo nel dettaglio la partita. Beh, abbiamo analizzato un po' gli avversari, come facciamo ogni volta. Sappiamo che è una squadra forte, tralasciando i risultati che ha subito le ultime partite. Ha dei giocatori validi, talentuosi. Sicuramente noi dobbiamo continuare sulla solita linea, quindi intensità, ritmo e sicuramente verrà un risultato positivo. Per te Andrea le domande di Francesco Meneguzzo del giornale di Vicenza. Sì, ciao Andrea. Ciao. E dopo la delusione scaturita dai derby col Padova, subito l'occasione per rifarsi? Eh, non c'è modo migliore, sì. Delusione, non la chiamerei più delusione, sì, più un rammarico, perché comunque la partita è stata fatta. Comunque è passato e non ne parliamo. Sì, chiaramente abbiamo subito modo di guadagnare dei punti che potevamo aver fatto anche settimana scorsa, comunque due giorni fa. Sicuramente con gli allenamenti che abbiamo fatto e come è stata preparata la gara faremo una buona prestazione. Hai detto appunto, giustamente, più che delusione rammarico. Infatti la domanda che volevo farti è che contro il Padova l'azienda è un sito sì sconfitto, però comunque ha dimostrato di potersi giocare contro una big e quindi contro anche chiunque e qualunque avversario. Beh, ma questo sempre. È chiaro che sulla carta ogni squadra magari ha dei vantaggi o degli svantaggi rispetto ad altri, ma chiaramente poi parla sempre il campo. Quindi l'importante è con una partita secca cercare di dare sempre il 110%, se non di più, quanto basta, per portare a casa dei punti. Archivata quindi la gara con il Padova, ci proiettiamo con la gara con il Lumizzana, è molto importante. Come vedi appunto il prossimo turno? Beh, come ho detto, è un avversario ostico. Chiaramente l'unica cosa che dovremmo fare noi è continuare quello che stiamo facendo, lavorando sodo e aiutandoci sempre con il gruppo. Questo è quanto e sicuramente faremo bene. Questa squadra ha carattere, questa squadra ha cuore. Queste le parole di Mr. Bianchini nel post-match della non aggiornata. Andrea, un commento a te da calciatore parte importante di questo gruppo su questa frase e così chiudiamo in ottica futuro per la partita di domani e poi per il proseguimento del campionato. Ma sono parole vere. È stata la nostra forza lo scorso anno e siamo partiti bene quest'anno e lo sarà. Miglioreremo ancora e il gruppo fa la forza. Con queste tue parole, Andrea, chiudiamo la conferenza stampa alla vigilia di Arzeniano Valchiampo-Lumezzane, valida, ricordiamo, per la decima giornata di campionato. L'appuntamento è qui allo Stadio Dal Molina alle ore 18.30 di domani oppure su Sky Sport e Now TV. Grazie alla stampa, grazie al nostro allenatore Giuseppe Bianchini e grazie al nostro difensore Andrea Gemignani. Grazie a tutti.